Chiudere le scuole se il contagio aumenta. Non ha dubbi la parlamentare di Forza Italia Valentina Prea, già sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, assessore regionale in Lombardia con delega alla scuola e membro della Commissione Cultura alla Camera, che ai nostri microfoni parla di DAD, Learning Loss, Indire, Invalsi e molto altro. Il nuovo DPCM del 6 marzo stringe ancora di più sulla scuola, anche se le nuove varianti imperversano e non risparmiano i ragazzi anche dell'infanzia e della primaria. Secondo lei, a differenza del periodo precedente, che cosa si può fare in questa terza fase? Questa terza ondata ci ha messo di fronte ad un dato di fatto che abbiamo dovuto considerare. La variante inglese in particolare colpisce anche i bambini e i ragazzi e i giovani, non risparmia neanche gli under 20. Quindi non potevamo non considerare l'effetto astrascico, cioè non solo i bambini si ammalano, ma poi portano a casa il virus e quindi rischiavano di contagiare genitori e nonni, insomma tutte le altre fasce della popolazione e non ce lo possiamo permettere in questo momento perché non abbiamo ancora avviato pienamente la campagna di vaccinazioni e siamo ancora abbastanza indietro e quindi fare le due cose insieme, controllare il contagio, anzi soccorrere chi viene contagiato e portare avanti le vaccinazioni non avremmo potuto farlo. Quindi per la tenuta del sistema e per evitare ulteriori contagi nella popolazione abbiamo dovuto prevedere degli automatismi legati alla situazione epidemiologica. Quindi quando sui territori c'è un contagio che è superiore a 250 ogni 100.000 abitanti, sia che siano fasce rosse, arancioni, rafforzato o giallo, si va direttamente a chiudere. Però ecco, cosa fare invece per recuperare il learning loss, gli apprendimenti perduti? Questo è il problema, quindi se l'emergenza sanitaria continua e non dà tregua, noi non possiamo stare a guardare rispetto ad una qualità ed efficacia della DAD. La DAD per molte scuole, per molti insegnanti è stata una sorpresa. Hanno dovuto cominciare a fare didattica a distanza senza essere per nulla preparati. Questo si poteva concepire un anno fa, a marzo dell'anno scorso, esattamente un anno fa, ma a distanza di un anno, nella terza ondata, noi dobbiamo assolutamente monitorare la qualità e l'efficacia della DAD. Innanzitutto sapere se tutti i ragazzi possono fare didattica a distanza, quindi se hanno device, se hanno connessione. E poi che tipo di DAD? Allora abbiamo chiesto al Ministero, e Bianchi ha già dato, come dire, qualche assicurazione da questo punto di vista, di investire l'indire e l'invalsi per effettuare monitoraggi costanti intanto sugli apprendimenti perduti, quindi sul livello di apprendimento che oggi i ragazzi hanno nella scuola, a partire da quelli che faranno l'esame di Stato, che sono i ragazzi che per due anni, quarto e quinto, sono andati praticamente in DAD. E poi compensare eventualmente gli apprendimenti perduti in modi diversi, non escludendo anche quello dove si riterrà necessario di prolungare l'anno scolastico, anche volontariamente, anche non dappertutto, ma certamente non possiamo stare né a guardare né accettare, come dire, l'ennesima sciagura, anche il learning loss, la perdita di apprendimenti. Ecco, ha toccato tante questioni. Facendo un passo indietro, sulla DAD in particolare, lei ritiene che sia opportuno utilizzarla anche nel primo ciclo e soprattutto una delle sue battaglie è stata anche quella di informatizzare i docenti, soprattutto della primaria, che sembrano avere delle lacune. Come si può ottemperare al problema e soprattutto durante questo periodo si è colmata qualche lacuna? Innanzitutto non esiste un'età in cui cominciare la DAD. Teniamo presente che più i bambini sono piccoli, i giovani, si sa, sono nativi digitali e quindi tutti quelli che sono nati praticamente in questi anni hanno delle competenze già quasi naturali perché vivono in un'era digitale. Il problema semmai è degli insegnanti e anche con riferimento al primo ciclo. Molte scuole dell'infanzia partono con apprendimenti digitali, ma il coding va fatto soprattutto quando i bambini sono piccoli nella scuola primaria, perché è un'abilità di base. Se fino al Novecento noi abbiamo detto che avevamo bisogno di garantire tre abilità, leggere, scrivere e farti conto, oggi dobbiamo aggiungere la quarta abilità di base, coding, che è l'alfabeto informatico. È l'alfabeto che sta alla base dell'intelligenza artificiale. Tutto è smart nel 2021, quindi anche gli apprendimenti devono cominciare ad essere, fin dalla tenera età, smart. Dati alla mano parlano di giovani che a causa del Covid soffrono di depressione e ansia con estremi casi di autolesionismo. Si è anche parlato di una vaccinazione degli under 16 per un ritorno in presenza, per salvare la maturità e soprattutto rimediare le lacune dello scorso anno. Ma sotto il profilo clinico-sanitario come si può aiutare questi giovani? Fin dalla prima ondata noi abbiamo chiesto ancora ai governi Conte di intervenire con equip psicomedico-pedagogiche nei distretti scolastici. Noi avevamo chiesto e chiediamo, siamo convinti di questo, che per esempio con il recovery plan bisognerà provvedere, abbiamo bisogno di presidi sanitari scolastici, ritornare al medico scolastico. Dal 1975 che nelle scuole non c'è più il medico scolastico perché pensavamo di non aver più bisogno, evidentemente. Ora sappiamo che non è così, che questo secolo potrà essere colpito da altre pandemie e quindi oggi l'abbiamo visto, il Covid-19 che è diventato, si è trasformato, non lo sappiamo, ma anziché fasciarci la testa e deprimerci dobbiamo reagire. Come reagire? Sicuramente con presidi sanitari scolastici e poi con equip psicomedico-pedagogiche. Questo è assolutamente necessario e abbiamo già ottenuto dal governo, questo è molto chiaro al ministro Bianchi, un potenziamento di risorse proprio per questi servizi. Quindi le scuole potranno dotarsi di psicologi, potranno investire anche, io immagino come rete territoriale, su equip psicomedico-pedagogiche, perché bisogna accompagnare i giovani, anche se, voglio dire una cosa, che oggi questi giovani sono ancora fortunati, pensiamo alle generazioni che hanno fatto la guerra. Come sta lavorando Bianchi, l'onorevole? Io stimo molto il ministro Bianchi, con lui ho una consuetudine di lavoro, perché siamo stati entrambi assessori regionali, lui dell'Emilia-Romagna e io della Lombardia, nello stesso tempo per le stesse deleghe. Abbiamo avuto quindi modo di conoscerci e di lavorare e di stimarci. Credo che finora abbia già dimostrato di conoscere i problemi della scuola, le urgenze, le emergenze, e non dimentichiamo che poi lui ha fatto già un apprendistato notevolissimo quando ha preseduto la commissione che ha redatto i principi per il post-Covid, la commissione voluta dalla Lora da Conte e da Azzolina. Quindi ha avuto modo di sentire tutti i protagonisti della scuola italiana e anche di conoscere i problemi. Quindi mi sembra molto ferrato e preparato. Comunque non gli mancherà l'apporto di Forza Italia e mio personale. Grazie.